Bene, dobbiamo dimostrare la seguente disuguaglianza, la radice quadrata di 1 più x al quadrato più la radice quadrata di 1 più y al quadrato più la radice quadrata di 1 più z al quadrato è maggiore uguale della radice quadrata di 6 volte x più y più z per ogni x, y, z maggiore o uguale di 0. Bene, questo è il momento di fermare il video e di procedere per conto tuo. Naturalmente esistono varie idee che si possono applicare per dimostrare questa disuguaglianza. Un tentativo potrebbe essere quello di elevare tutto quanto al quadrato e cercare in qualche modo di stimare i vari termini, eccetera. Ed è sicuramente una tecnica da prendere in considerazione e che utilizzeremo in seguito. Oppure un altro metodo potrebbe dire, ma come diventa questa disequazione nel caso in cui ci sia soltanto la variabile x? Come diventa questa disequazione nel caso in cui ci siano soltanto x e y? E poi il terzo step è quello di considerare la disuguaglianza che dobbiamo dimostrare. Immaginando, diciamo, che uno step dipenda da quello successivo, a parte quello iniziale, che non ha uno step precedente. Bene, io direi a questo punto di partire con questa tecnica. Quindi, se vuoi, puoi fermare il video e procedere per conto tuo. Partiamo dallo step 1. Lo step 1 consiste nell'andare a considerare a questo punto radice quadrata di 1 più x al quadrato maggiore o uguale della radice di x. Allora, che coefficiente mettiamo davanti alla x? Beh, è abbastanza intuitivo mettere un 2, va bene? Questa disuguaglianza è sicuramente vera, basta elevare al quadrato e puoi ricordarsi la formula del quadrato del binomio. Molto bene. Allora, adesso procediamo con lo step 2. Lo step 2 consiste nell'andare a considerare la radice quadrata di 1 più x al quadrato più la radice quadrata di 1 più y al quadrato maggiore o uguale della radice quadrata di x più y. Che coefficiente mettiamo? Allora, anche qui naturalmente bisogna ragionare. Allora, con una variabile mettiamo 2, con tre variabili mettiamo 6, con due variabili facciamo 2 per 2 e viene fuori 4. Ok? Bene. Se vuoi puoi fermare il video e procedere per conto tuo. Allora, adesso usiamo come tecnica quello di elevare al quadrato, cioè sostanzialmente questa disuguaglianza è vera se solo se elevando al quadrato, quindi si ha 1 più x al quadrato più 1 più y al quadrato più 2 volte la radice quadrata di 1 più x al quadrato per 1 più y al quadrato, è maggiore o uguale di 4 volte x più y. Va bene? Allora, è chiaro che da qui posso portare un 2x, sempre da qui posso portare un 2y, e chiaramente questo termine è maggiore, quindi devo mettere un meno, mettiamo il meno, quindi questo termine è sicuramente maggiore o uguale di 0 per lo step 1, così come questo termine è maggiore o uguale di 0 per lo step 2. Va bene? Allora, naturalmente l'obiettivo a questo punto è questo. Questa disuguaglianza sicuramente è vera se due volte la radice quadrata di 1 più x al quadrato per 1 più y al quadrato è maggiore o uguale a questo punto di 2 volte x più y. Va bene? Allora, questo 2 e questo 2, diciamo, si semplificano e a questo punto continuiamo ad elevare al quadrato. Vediamo cosa succede. Quindi abbiamo 1 più x al quadrato, 1 più y al quadrato, maggiore o uguale di x più y al quadrato. Bene, dobbiamo sviluppare a questo punto. Quindi abbiamo 1 più x al quadrato più y al quadrato più 2 volte x al quadrato deve essere maggiore o uguale di x al quadrato più y al quadrato più 2 volte xy. Quindi questo x al quadrato va via, questo x al quadrato, questo qui va via, questa attenzione si scrive come xy e allora questo è equivalente a dire che xy meno 1 al quadrato è maggiore o uguale di 0, che è sicuramente vero. Quindi lo step 2 è sicuramente stato dimostrato. Va bene? E allora adesso quello che facciamo è proviamo a dimostrare lo step 3. Naturalmente questo è il momento di interrompere il video e di procedere per conto tuo nella dimostrazione dello step 3. Allora, attenzione, dobbiamo sicuramente elevare al quadrato ambo i metri e quindi abbiamo 1 più x al quadrato più 1 più y al quadrato più 1 più z al quadrato. Poi ci sono i doppi prodotti, quindi più 2 volte la radice di 1 più x al quadrato di 1 più y al quadrato più 2 volte la radice di 1 più x al quadrato per 1 più z al quadrato. E naturalmente questo deve essere maggiore o uguale, dobbiamo dimostrarlo naturalmente, di 6x più y più z. E' chiaro che come prima possiamo rifarci agli step precedenti. Allora, innanzitutto noi possiamo portare un 2x da questa parte, un meno 2x, chiedo scusa, un meno 2y da questa parte e un meno 2z da questa parte. Quindi questo è importante, per cui in base allo step 1 questo oggetto qui è maggiore o uguale di 0. E quindi ci basta dimostrare sostanzialmente che cosa che facciamo 2 volte la prima radice più la seconda radice più la terza radice, le radici sono queste naturalmente, deve essere maggiore o uguale di 4 volte x più y più z. Allora togliamo questo 2 e naturalmente mettiamo qui un 2 e riscriviamo i vari termini. Quindi se noi dimostriamo che vale questa, allora automaticamente vale la disuguaglianza precedente e quindi la dimostrazione è completa. Allora noi abbiamo la radice quadrata di 1 più x al quadrato per 1 più y al quadrato e abbiamo detto prima, nella dimostrazione di prima, che questo è sicuramente maggiore o uguale di x più y. Così come in modo perfettamente analogo si dimostra che, in base a prima, che 1 più x al quadrato, 1 più z al quadrato, è maggiore o uguale di x più z, così come si dimostra che la radice quadrata di 1 più y al quadrato di 1 più z al quadrato è maggiore o uguale di y più z. Ecco, se noi sommiamo i tre membri, otteniamo esattamente al secondo membro 2x più y più z, e al primo membro la somma di queste tre radici. Ricordiamo nuovamente che queste tre disuguaglianze derivano dall'analisi dello step 3, c'è un passo dell'analisi dello step 2, c'è un passo dello step 2 in cui abbiamo dimostrato disuguaglianze di questo tipo. Dunque la dimostrazione è compiuta.